Luce e acqua gratis. Succede a Librino, quartiere periferico di Catania, in due palazzi di Viale Moncada, dove la polizia ha denunciato complessivamente 100 persone per furto aggravato e continuato. Pare infatti che avessero allacciato abusivamente i propri impianti domestici alla rete idrica e a quella dell'energia elettrica. I controlli, eseguiti insieme con Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Sidra, Enel e Asp, hanno riguardato anche una sala giochi che è stata chiusa e dei garage che erano stati trasformati in stalle. In questi locali infatti sono stati rinvenuti due cavalli senza il microchip.